E adesso parliamo di coronavirus. In Puglia si alleggerisce la pressione sugli ospedali e sui reparti di terapia intensiva. Secondo la Fondazione GIMB, nella settimana dal 16 al 22 febbraio si registra un decremento del 14% rispetto a sette giorni prima. Vediamo insieme i dati aggiornati dell'ultimo bollettino epidemiologico diffuso dalla regione pugliese. In Puglia la curva dei contagi Covid-19 continua a scendere. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio diffusi dalla Fondazione GIMB, nella settimana dal 16 al 22 febbraio si registra un decremento pari al 14% rispetto a sette giorni prima. In calo anche i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. L'occupazione dei posti letto in area medica è circa al 25%, in terapia intensiva invece si attesta intorno all'11%. Lecce è la provincia in cui sono stati accertati più nuovi casi ogni 100.000 abitanti, seguita poi da Foggia, Brindisi, Bari, Taranto e Barletta-Andreatrani. In un quadro di evidente miglioramento, se da un lato il virus rallenta la sua corsa, dall'altro il numero dei decessi desta ancora particolare attenzione. Come la scomparsa di Luigi Arcuti, sindaco di Aradeo, spirato nel reparto di terapia intensiva della Dea di Lecce nelle ultime 24 ore. Nonostante le tre dosi, la situazione clinica è peggiorata in quanto si trovava in una condizione di immunodepressione. Il primo cittadino leccese aveva contratto il coronavirus a metà gennaio ed era stato ricoverato nel reparto di rianimazione, proprio a causa dell'insorgere delle complicanze della malattia. E intanto in Puglia la campagna vaccinale in questa fase è impegnata nel completamento dei cicli vaccinali primari e nel potenziamento con dose booster per la popolazione pugliese. Dall'ultimo report della ASL di Bari emerge che la circolazione del virus SARS-CoV-2 è in diminuzione ininterrottamente da sei settimane. Il tasso di incidenza settimanale è arretrato di altri 17 punti percentuali. Le coperture vaccinali sono stabilmente attestate al 94% per gli over 12 e al 91% nella fascia più ampia degli over 5, sia con prima dose sia con ciclo completo. Ed infine sul fronte dei contagi, oggi in Puglia si sono registrati 3.437 nuovi casi positivi al coronavirus su 28.234 test effettuati. Il bollettino regionale riporta un numero complessivo di 7 decessi. Le nuove positività sono così distribuite. 855 in provincia di Bari, 249 nella provincia Barletta-Andreatrani, 317 in quella di Brindisi, 521 nel Foggiano, 1019 nel Leccese e 447 nel Tarantino.